Cinque carrozzelle donate da Artisanitas Sulmona all'ospedale dell'Annunziata resteranno a disposizione dell'ASL, ma soprattutto dei pazienti fragili che hanno difficoltà a deambulare. Con Paolo Angelilli vediamo qual è stato lo spirito di questa donazione. Allora, niente, possiamo dire che questo gesto è un granello di sabbia in mezzo a un deserto di necessità, però possiamo dire che pur essendo così piccolo siamo certi di poter dare un aiuto alle persone che hanno bisogno di questo tipo di ausilio. Il nostro intento è quello di migliorare un servizio di assistenza che già esiste per questi pazienti che hanno difficoltà motorie e per i loro familiari. Nient'altro che un aiuto concreto che diamo agli utenti, quello che cerchiamo di fare e dare ogni giorno, anche tramite la nostra attività lavorativa, tutto qua. Tra Artisanitas e l'ospedale di Sulmona, come sappiamo, c'è già una vicinanza geografica, toponomastica a due passi. Questo gesto vi rende ancora più vicini all'ospedale, quindi anche di fatto possiamo dire? Sì, diciamo di sì. Però ci tengo a dire che questo gesto è stato fatto in prima persona e poi tramite l'azienda, quello sì, sicuramente, perché io dico sempre come diceva il grande Seneca, chi aiuta gli altri aiuta se stesso e questo a noi non può che farci piacere, insomma, poter aiutare il prossimo. Tutto qua.